Unboxing Si nasconde qua dentro Che cosa? Cosa di abbastanza antico Eccolo qua Questo è un pezzo Abbastanza raro E comunque importante E' Il numero uno Dell'uomo mascherato Delle edizioni Il Vascello Che poi ha dato Il via a una serie molto lunga E quindi è importante Non è il primo La prima apparizione Dell'uomo mascherato Ma è Il primo numero Della serie più importante Vedete? La leggenda della giungla Siamo proprio in anni Molto lontani Adesso vi dico la data Eccolo qua Eccoci qua 1958 Anno uno numero uno Eccolo la Eccolo a Eccolo a Eccolo a Eccolo a Eccolo a Eccolo Grazie a tutti.